Ieri sono andata, che era domenica, mi servivano alcuni prodotti, alcune cose, mi servono soprattutto delle padelline nuove e dei coperchi. Sono andata prima a risparmio casa, ma i prezzi erano qualcosa di... era tanto che non ci andavo, ma i prezzi erano altissimi. Ho preso veramente una cosa o due e poi sono andata dal mio preferito, che insomma è Orizzonte, che è una catena di negozi che ci sta solo nel Lazio. Comunque, proseguiamo con la spesa che ho fatto. Non sono tante, tante cose, ma volevo farvele vedere. Allora, a risparmio casa ho comprato questo coperchio di questa misura che dovrebbe essere 22, infatti, di vetro, con il buchino per far uscire il vapore, perché il mio l'ho rotto già da tanto tempo. E ho un'altra misura più grande che non corrisponde quasi a nessuna pentola o padella che ho. Comunque, dicono che è inox antiruggine e questo qui l'ho pagato intorno a 3,50 euro. Non l'ho pagato caro, ma per certi altri coperchi ho rinunciato, perché costava troppo, infatti poi l'ho preso da Orizzonte. E, come sapete, prendo sempre questi snack qui, quando li vedo, perché a Luna piacciono tantissimo. Questi qua sono di coniglio. Questo potrebbe essere risparmio casa. Eccolo qua, 3,49 scusa il coperchio e 3,99 gli snack. Mentre, da Orizzonte, lo scontrino dovrei averlo qua da qualche parte. Vabbè, ho preso il classico coperchietto. Ah, eccolo qua, scusatemi, sì, è acciaio inox e acciaio X. Fino fino, questo qui l'ho pagato molto meno di quello di vetro. E questo qua è quello che io preferisco, perché sono leggerissimi e si impilano in pochissimo spazio. Sempre in misura 22, che poi è diversa da quel 22 là, è un po' più grande. Ho preso questa padellina semplice, semplice di questa misura, perché mi si era rotta questa qua. È una 26, 22, 24, non mi ricordo più. È una della 24 e è importante perché è PFO free, vuol dire che non ha il rivestimento con il teflon. E io, perché ho dei pappagalli, è fondamentale questa cosa. È carina, è semplice, non l'ho pagata di certo cara, ma mi serve, sai, comunque le maltratto un po' le mie padelle col fatto che non aggiungo oli. Allora, tante volte anche cucinando un hamburgo, qualcosa asciutto così soffrono un po' di più. Però per il prezzo per cui l'ho pagato, insomma, va bene. Ho acquistato il panno, quello ultra assorbente e lucidante per l'acciaio. Ho voluto provare, perché questo qui stava in offerta, 30-30, l'ho preso giallo, perché gli altri colori erano più brutti. C'era il verde, ma era brutto sotto bosco. E lo voglio provare, perché comunque è per il pianale della cucina, poi ho tutto in acciaio. Dovrebbe andar bene, lo voglio provare. Poi ho preso anche questi snack, sono dei piccoli premietti, che lo do anche alla cuccioletta di mia mamma quando viene a trovarmi. E lei va matta di questo qui, o ripieno di formaggio o con salmone e spinaci. La mia piccolina, insomma, vado, gli do quel croccantino che lei è innamorata. Ho preso due qualità di salviettine baby a 87 centesimi. È sempre bella averla dentro casa, perché le mani, il volto, insomma, ti serve qualcosa al volo per rinfrescarti. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo sempre a casa. Ne ho preso 4, 84 centesimi. È ottimo. Mio marito ha preso i guanti, questi qui, che servono, quelli con la presa, insomma, con la gomma e la stoffa, la logica, per i lavori in casa e per i lavori fuori. No, lo scontrino non ce l'ho, non lo so perché. Va bene, forse ce l'avrò, ce l'avrò in bozza. Ho preso la glue tap, la colla al nastro, che mi serve per la decorazione dei miei diari, perché ha un rumore, un suono che, a quanto pare, è molto gradevole quando si fa la ASMR. e l'ho voluta provare, della Twingo. È l'unico pezzo che c'era. E l'ho voluta provare. Proveremo anche questo rumore negli ASMR. Poi, quando arriverà la mia nipotina, lei è innamorata degli unicorni, le ho preso questa borraccetta, questo bicchiere con la cannuccia, semplice di plastica, per mettere i succhini di frutta, per mettere un tè, insomma, quello che vuole, anche acqua fresca, e simpatica perché si può riporre la cannuccia dentro il bicchiere. Molto carino. E questo così glielo metto a lavare quando arriva al suo bicchiere la sera. E niente, questa qui è la mia spesa. Ho detto proprio poco a poco. Poi mio marito ha preso uno spazzolone e un tergicristalli per lavare la macchina. C'ha una grandissima scopa, grossa così, con le sedole un po' più rigide, con il manico allungabile, apposta per lavare la macchina. e veniva sui 19 euro. Ebbene, siamo alla fine di questo video spesa orizzonte e risparmio casa. Ciao ragazzi, alla prossima!